Bollywood sbarca a Milano. C'è anche Piazza del Duomo, tra le location scelte dalla produzione di Anas Renivas High Screens per il film Garam del regista Ramigani Madan Mohan Reddy. Il set è stato allestito sotto la statua di Re Vittorio Emanuele con il Duomo a fare da quinta naturale. Protagonisti dello shooting, gli attori Adita Putipedi e Puyasharma, supportati da un gruppo di ballerini italiani. Nel film Varam è un tecnico informatico che ha un'offerta di lavoro da un'azienda italiana. A Milano incontra per caso Saarsa, studentessa di un famoso collegio musicale. Per conoscerla meglio il ragazzo allunga il suo viaggio in Italia. Pian piano l'amicizia diventa un amore contrastato però dal padre del giovane contrario alla storia perché la ragazza appartiene a una classe sociale modesta. Saarsa intanto torna in India dopo aver terminato gli studi, inizia a lavorare per un famoso canale musicale indiano e pian piano diventa famosa, vedendo tutto ciò il padre cambia idea ed è favorevole che suo figlio la sposi. Il film, girato in diverse location milanesi con il supporto gratuito della Lombardia Film Commission, uscirà in India nel dicembre 2015.